Dico soltanto a chiunque abbia da speculare su Silvia Romano. Per poter speculare su di lei, ci dovremmo ritrovare a 23 anni, rapiti in Kenya. Dovremmo essere trasportati da persone armate di Kalashnikov nella foresta, camminando sino a 9 ore al giorno per un mese. Passare in quattro rifugi consecutivi, essere continuamente sorvegliati con persone con Kalashnikov. Dopo, quando si fa questa esperienza, si ritorna qui, la potremo ascoltare e verificare tutte le conseguenze del caso. Grazie.